In quest'area di fondo De Pasquale è prevista la realizzazione di palazzine e ACP. 60 alloggi di edilizia e residenziale pubblica destinate agli eventi di ritto in gradatoria, ma la macchina di risanamento a Messina continua a muoversi lentamente e ad oggi non sono ancora iniziati i lavori. Nella zona c'è solo il degrado documentato dalle immagini. Nel 2009 l'avvio delle demolizioni, ruspenazione in uno dei tanti ambiti di risanamento definiti dal comune di Messina, scaturiti da quella ormai nota legge 10 del 1990 che assegnava alla città dello stretto risorse per lo sbaraccamento e la costruzione di nuovi edifici. Un cronoprogramma da portare avanti e tutto sembrava andare per il verso giusto, ma dopo i primi abbattimenti lo stop. Un contenzioso con un privato ha di fatto fermato le operazioni, una casa è stata demolita per errore e nel frattempo Comune e ACP per la propria parte di competenza hanno dovuto provvedere al risarcimento del danno. Intanto di anni ne sono passati e, fanno sapere dagli uffici del Dipartimento di Risanamento del Comune di Messina, i fondi staziati 8 milioni di euro non basteranno per realizzare quel progetto. Con l'aggiornamento del prezziero regionale necessario di integrare le risorse, all'appello mancherebbero quasi 4 milioni di euro. Nel 2012 l'Istituto Autonomo Case Popolari ha chiesto ed ottenuto a Palazzo Zanca la recinzione dell'area per evitare il deposito di materiali, ma il degrado avanza comunque e Fondo De Pasquale attende una riqualificazione che non arriva.